Da oggi al 6 gennaio Erice si veste a festa per le celebrazioni natalizie con Erice Natale, manifestazione ideata dalla Fondazione Erice Arte in collaborazione con l'Associazione Pianeta Sud e il contributo dell'assessorato al turismo della regione siciliana. Si potranno ammirare ben 32 presepi lungo le vie, tra questi il più piccolo del mondo realizzato sulla punta di un lago e non visibile ad occhio nudo se non attraverso un sistema di ingrandimento che ne proietta l'immagine su un monitor e poi ancora il presepe monumentale e meccanico oltre ai mercatini di Natale allestiti in Piazza della Loggia e in Piazzetta San Giuliano. La chermessa si apre oggi con l'accensione dell'albero di Natale alto 11 metri e tutto decorato di rosso in Piazza della Loggia. Contestualmente prenderà il via la quinta edizione di Zampogne dal mondo. Protagonisti giovani interpreti di Zampogna Ceramella e Cornamusa italiani e dall'estero. Per tutta la giornata si potrà ascoltare la musica itinerante. Domenica le esibizioni continueranno per le vie del borgo e alle 18 tutti i gruppi suoneranno insieme in concerto.